musica 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 e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di XMORIC98 siamo su un'altra mappa di Glender questa volta su elementari sarebbe una scuola elementare e vabbè siamo con il gameplay appena ho aperto il gioco e già mi sono cagato sotto dai rumori perchè c'era tipo ecco qui c'era tipo una bambina che cantava e poi rideva stranissimo qui del sangue c'è proprio oh cristo la campanella che invece di suonare si è rotta e esplosa perchè madonna non c'è qua non c'è qua fa un culo e la lavagna alle lezioni ah ah si si qua devo trovare questi orzi occhiotti qui c'è ancora ragione mingà la prof la posso andare al bagno oh my god oh my cristo oh my cristo no no qui non andiamo ah poi credo dovremmo anche uscire la scuola perchè anche lì c'ha parca la sagrada non c'è niente non c'è niente però è più è più illuminato degli altri slender questa cosa mi piace mi piace davvero tanto qui c'è un altro daddy barry o qui c'è un computer ah giriamo a slender in quel computer oh cristo un braccio un braccio un braccio e perchè questo qui pecorise cioè proprio sembra che lasciamo stare oh my god ok usciamo dai ehm no 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 oh oh jesus dove minghia dobbiamo andare ok cristo cosa sono queste voci oddio ho paura keep out ahem io entro lo stesso Non c'è so Ancora le lavagne Non voglio far lezione Micchia Oh Cristo No 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 Scappiamo sopra il sacco Scappa scappa No ora parte la musichetta quella La musichetta Non chiacori Che cazzo è Oh Cristo Devo prendere anche questo Oddio Aiuto Un altro dead bird No Un piccolo chiuso No Scappa 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 Cristo mi ha fatto prendere un colpo Quel brutto Cosa lì Che è strato in un Oddio No ma lo stai andare ancora Non parliamo Non parliamo Sennò Poi ci appare Ci incula Dietro La pepra Ci stupra Cristo No non ti muore Una puttana per favore Ma è femmina questa Non è matica Vabbè non fare la puttana Ah ecco perchè quando mi fermo Tipo tipo di peperinza E' abituato eh Ah qui già ci sono Non fare la puttana Non fare la puttana Ah si che poi sono uscita Ma io vado qui Non fare la puttana Non fare la puttana Non fare la lavagna Minchia due più due Sa quattro Odio queste canzoncine No un altro E con questo facciamo Quattro su dieci Credo Cinque Ah no cinque su otto Dai no no li devo collezionare tutti Oh Cristo Aiuto 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 Mi sta cagando sempre più sotto Oh my god Oh my god Ma ci sono Questa scuola è molto Ascet Ah Dai voglio Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Questa scuola è Un m***e Chiamano lab rinto Ci si perde In una maniera assoluta Ah Qui la testa Aiuto ah qui già ci sono in un modo, ah qui non ci sono in un modo ah no no ci sono in un modo, non ci sono in un modo ah la già l'ho preso no 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 non fare la puttana con me, non fare la puttana con me, corri corri ah c'è raga mancano tre orti, dai spieghiamoci ma perchè ogni finestra c'è sempre un pene di albero ah qui siamo andati per il caso, adesso dobbiamo rischiare vedi sempre l'albero ah lì c'è la campanella che poi esplode vedi sempre alberi sempre alberi dai dove sono, mingati TedBerry ah poi ci suggera, allora, adesso muoco a parlare sto tremando un TedBerry mingati TedBerry alberi un albero qui già l'ho preso ah 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 oggi ci sono venute prove Noi scoppiamo Io sono andato sicuramente a destra Facciavo la cosa a sinistra Ok no invece è andato a sinistra Cioè andiamo indietro Oddio 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 La fa culo Slender Perché io nelle stanze chiuse devo andare Dicca puttana E vabbè Anche Anche con questa mappa Abbiamo finito Abbiamo raccolto 6 vagine su 8 Ok, scusate, basta E vabbè, niente Ragazzi Un momento Ok, allora Devo dirvi che Ora devo andare A cambiarmi Le mutandine Perché ho fatto una cosa Marrone Ok, no dai, scherzo E va bene, ragazzi, da questo video è tutto E ci vediamo Col prossimo video di Slender, con la prossima mappa Ma prima di chiudere il video vi volevo dire Che Forse, no Domani, anzi no, lunedì Perché oggi è domenica E lunedì, cioè Sto registrando di sabato, però questo video Lo carico domani, che sarebbe domenica Perciò voi lo vedrete domenica Comunque basta, fare il coglione Lunedì Che sarebbe il Non lo so Compro Black Ops 2 Perciò farò gameplay anche su Black Ops 2 Perciò Da questo video È tutto E vi saluto E ci vediamo La prossima settimana O nel prossimo video di Slender Ciao, ciao